Io ringrazio il consigliere Fiumeni per aver portato anche oggi all'attenzione questo fatto di cronaca. Massima solidarietà da questo punto di vista, però non possiamo notare come ormai sta diventando regolare che la destra per eventi di violenza, di incidenti anche avvenuti sul territorio romano, però ogni volta ci porti delle emozioni con richiesta di intitolare toponimi, vie. Quindi anche un po' nell'idea di fare un ragionamento più generale e non fare una campagna che sia elettorale in cui si porta avanti il tema di singoli nomi rispetto alle violenze subite, insomma il gruppo del Movimento 5 Stelle si asterrà, ma massima solidarietà a queste figure. Grazie.